Sale d'aspetto, municipi, uffici pubblici. Questi luoghi prescelti dalla polizia per distribuire i nuovi manifesti volti a mettere in guardia gli anziani dalle truffe. I reati di questo tipo, spiega Leopoldo Testa, vicario del questore di Varese, si sono purtroppo moltiplicati in tutta la provincia. Dall'inizio dell'anno a oggi sono giunte alla polizia 244 denunce relative a truffe e frodi informatiche. Per tale ragione abbiamo pensato di avviare questa campagna informativa anche grazie al supporto dei sindaci. Abbiamo già affisso i primi manifesti in questura, nell'ufficio anagrafe di Varese, a Bodio e a Casciago. I consigli sono semplici, non aprire agli sconosciuti, chiamare il 112 in caso di dubbi e non fidarsi mai di coloro che senza preavviso bussino alla porta chiedendo di entrare in casa. Non abbiate timore e vergogna, conclude Testa, quando avete dubbi e sospetti chiamate sempre la polizia.